La potenza dell'algebra si mostra nella soluzione di piccoli problemi, nel senso che possiamo in realtà tradurre questa richiesta, qual è quel numero che si deve aggiungere a due terzi per ottenere nove quinti, lo possiamo tradurre in un'equazione e quindi in questo modo procedere più agevolmente con la soluzione, ovvero il numero, in questo caso, io lo indico con x. E poi traduco il numero che devo aggiungere a due terzi per ottenere nove quinti. A questo punto la richiesta che ho davanti è una banalissima equazione di primo grado che posso quindi agevolmente risolvere con le tecniche che abbiamo imparato fino a questo momento. E quindi x diventerà uguale a nove quinti meno due terzi e quindi facendo il minimo comune multiplo crea quindici, quindici diviso cinque tre per nove venti e sette, quindici diviso tre cinque per due dieci e quindi il numero richiesto è diciassette quindicesimi. Quindi il passaggio più difficile resta comunque questo, cioè quello della traduzione dal linguaggio dell'italiano, anche se poi vedremo che ci saranno situazioni in cui non è così facile esprimerlo in italiano, al linguaggio, diciamo così, matematichese, cioè quello della matematica. E quindi con il linguaggio della matematica di fatto ne nasce un'equazione che poi è facile da risolvere. Qual è quel numero che bisogna togliere da 33 quinti per ottenere 6? Quindi anche in questo caso il numero che dobbiamo trovare è x, lo togliamo da 33 quinti, quindi è 33 quinti meno x ed è uguale a 6, quindi meno x è uguale a 6 meno 33 quinti e quindi meno x è 5 per 6, 30, meno 33, meno 3 quinti. Cioè la x che stiamo cercando è in realtà 3 quinti. Quindi 3 quinti è il numero che possiamo togliere da 33 quinti per ottenere 6. Quindi probabilmente qualcuno di voi starà pensando che in realtà sarebbe stato molto più semplice ragionare sul testo del problema anziché andare a risolvere un'equazione associata. Questo è vero, in questi casi è abbastanza semplice, in cui si può arrivare intuitivamente alla soluzione senza andare a cercare un'equazione. Ma sono i primi passi che il testo ci fa compiere per poter poi affrontare i problemi un po' più complessi. Qual è quel numero il cui triplo è la differenza fra 72 e 24? Quindi il nostro numero è sempre x, il suo triplo è la differenza fra 72 e 24. Qua innanzitutto conviene dividere tutto per 3, quindi x è uguale a 24 meno 8 e quindi il numero che stiamo cercando è effettivamente 16. E in effetti il triplo di 16 è 48 e la differenza fra 72 e 24 è 48. Determina il numero naturale che aggiungendo al suo triplo il numero 5 si ottiene 9. Allora, in questo caso stiamo andando a risolvere dei problemi che si fanno via via più complessi. Il nostro numero naturale lo ridichiamo sempre con una x, ma quando arriveremo alla fine dovremo appunto verificare che il numero sia effettivamente un numero naturale. Quindi, quel numero naturale x che aggiungendo al suo triplo, aggiungendo 5, si ottiene 9. Quindi diventa che 3x è uguale a 4, quindi x è uguale a 4 terzi. Siccome il testo ci chiedeva un numero naturale e 4 terzi non appartiene ai numeri naturali, allora di conseguenza questo problema non è risolubile. Qua possiamo mettere non esiste x appartenente ad R come siamo stati abituati a fare, ma in realtà più corretto in questo caso è non esiste x appartenente ad N che sia soluzione del problema dato. Sommando 15 al doppio di un numero si ottengono i sette mezzi del numero stesso. Qual è il numero? Quindi il nostro numero è sempre x. Sommando 15 al doppio di x ottengo i sette mezzi del numero stesso, quindi i sette mezzi x. Quindi 2x meno sette mezzi x è uguale a meno 15. Quindi qua abbiamo meno tre mezzi x uguale a meno 15, ovvero tre mezzi x uguale a 15, quindi x uguale a 15 per due terzi, cioè 10. Quindi sommando 15 al doppio di 10 otteniamo 35, che sono i sette mezzi del numero stesso, sì, i sette mezzi di 10 è 35. i cinque sesti di un numero superano di 1 i tre quarti del numero stesso, quindi i cinque sesti di un numero superano di 1 i tre quarti del numero stesso, quindi è uguale a 1 più i tre quarti del numero stesso. Quindi diventa 5 e sesti x meno tre quarti x è uguale a 1, quindi diventa 20 meno 18, no, allora facciamo come minimo comune multiplo 12, 12 diviso 6, 2 per 5, 10, 12 diviso 4, 3 per 3, 9. e quindi abbiamo che un dodicesimo x è uguale a 1, cioè x è uguale a 12. Togliendo 10 da un numero e aggiungendo poi 10 alla metà della differenza così trovata, si ottengono i tre quinti del numero stesso. quindi ho il mio numero che è x, mi tolgo 10, aggiungo 10 alla metà della differenza così trovata, quindi alla metà di questa differenza io aggiungo 10 e ottengo i tre quinti del numero stesso. Questa quindi è la traduzione del mio problema. Quindi moltiplicando tutto per 10 diventa 5x meno 50 più 100 è uguale a 6x e quindi diventa meno x è uguale a meno 50, cioè x è 50. In effetti tolgo 10 da 50, ottengo 40, aggiungo 10 alla metà di questa differenza, quindi la metà di questa differenza è 20, aggiungo 10, ottengo 30 e ottengo i tre quinti del numero stesso, che è la verità. Dividi il numero 42 in due parti in modo che i 7 ottavi della prima parte superano di 3 alla seconda. Quindi in questo caso n1 ed n2 e sono tali che la loro somma sia 42. Quindi basta che uno lo chiami x, l'altro sarà 42 meno x. I 7 ottavi, ad esempio, di n1 superano di 3 la seconda parte. Quindi 7 ottavi di x sono 3 più la seconda parte che è 42 meno x. Quindi 7 ottavi x più x fa 15 ottavi x che è uguale a 45. Posso dividere tutto per 15 e quindi il numero cercato è 24, cioè le due parti in cui ho diviso 42 sono 24 e la seconda che è 18. E quindi in questo modo ho ottenuto le due parti. Determina due numeri pari consecutivi sapendo che la somma di 5 quarti del maggiore e 5 sessi del minore è 65. Due numeri pari consecutivi. e quindi la cosa importante è che sono pari e i numeri pari si esprimono come un prodotto per 2. Quindi avrò il primo numero che posso indicarlo come 2x. Il secondo numero, essendo consecutivi, hanno una differenza di due unità fra di loro. Potrebbe andar bene anche scegliere come n1 2x meno 2 e n2 2x. Vedremo che il problema esce comunque non con lo stesso valore di x. Quindi i 5 quarti del maggiore che è n2 più i 5 sesti del minore che è n1 sono uguali a 65. Prima cosa dividiamo tutto per 5 così evitiamo un po' di calcoli. Allora a questo punto avrò n2 che è 2x più 2 fratto 4 e n1 è 2x fratto 6 è uguale a 13 e quindi in questo caso mi risulta x più 1 fratto 2 più x fratto 3 è uguale a 13. Facciamo il minimo comune multiplo che è 6 quindi 3x più 3 più 2x è uguale a in questo caso 6 per 13 fa 78. Quindi ci ritroviamo 5x è uguale a 75 x è uguale a 15. Quindi i due numeri che stiamo cercando sono 30 e 32. risolvendo nell'altro caso ci sarebbe risultato x uguale a 16 da cui avremmo ottenuto ancora 30 e 32. Se dal prodotto di un numero per il suo successivo si sottrae il prodotto del numero stesso per il suo precedente si ottiene 46. Quindi io ho un numero il suo successivo che è x più 1 e il suo precedente che è x meno 1. Quindi questo qua è il numero che stiamo cercando questo è il suo successivo e questo è il suo precedente. Il prodotto di un numero per il suo successivo. Da questo prodotto sottraggo il prodotto dello stesso numero per il suo precedente e ottengo 46. Quindi andiamo a sostituire otteniamo che x per x più 1 meno x per x meno 1 deve fare 46. Quindi qua esce x alla seconda più x meno x alla seconda più x uguale a 46 e quindi in altre parole 2x uguale a 46 cioè il numero che stiamo cercando è in realtà 23. determina due numeri dispari consecutivi sapendo che sottraendo 7 alla loro somma si ottengono i 5 terzi del maggiore. Quindi in questo caso i numeri dispari saranno n1 che è 2x più 1 e n2 che è 2x più 3 perché per essere consecutivi devono avere una distanza di 2 unità oppure esattamente come abbiamo fatto prima con i numeri pari posso indicarli come 2x meno 1 e 2x più 1 allora io so che sottraendo 7 alla loro somma quindi dalla loro somma sottrago 7 ottengo 5 terzi del maggiore che n2 quindi sostituiamo diventa 2x più 1 più 2x più 3 meno 7 è uguale a 5 terzi per 2x più 3 quindi 4x in questo caso più 4 meno 7 che fa meno 3 è uguale a 10 terzi x più 5 quindi 4x meno 10 terzi x fa 2 terzi x e 5 più 3 fa 8 quindi semplificando per 2 il numero x è 12 e quindi i due numeri dispari sono 25 e 27 questi sono i due numeri dispari che stavamo cercando allora questi qua sono stati alcuni esercizi per dimostrare come si può lavorare con i problemi e quindi potete procedere con questi altri problemi ma anche con altri problemi che magari vi fa piacere affrontare questi qua diciamo così sono un assaggio per cominciare buon lavoro app Grazie.